Il 6 settembre festeggeremo il terzo compleanno consecutivo senza l'annunciata nuova discarica di Grasciano 2. Perché il Cirso nel giro di pochi anni è passato da una riconosciuta e documentata azione di rilancio ad uno stato comatoso che il 16 settembre approderà in tribunale per l'udienza di prefallimento? E ancora, come mai sotto la presidenza di Lunella Cerconi, nel giro di soli 99 giorni, tra novembre 2008 e febbraio 2009, si riuscì a realizzare l'invaso da oltre 34.000 m3 e invece si è dovuto attendere ben quattro anni per l'autorizzazione alla discarica di Grasciano 2, tutt'ora inesistente? Sono solo alcuni degli interrogativi sollevati da Luciano D'Amico, rettore dell'Ateneo Teramano e presidente di Cirso da maggio 2008 e anche a nome dell'altra presidente del consorzio, fino al 2010, Lunella Cerconi, oggi vice sindaco a Bellante. Un incontro in cui agli organi di informazione e alla presenza degli ex lavoratori soggesa, Luciano D'Amico ha dettagliato strategia, gestione e risultati formulati fino al 2010 per il consorzio. Unico obiettivo? Il salvataggio di soggesa, così come si fece prima del successivo tracollo arrivato a giugno 2012 con il fallimento della società, ma D'Amico e Cerconi già non c'erano da tempo. E poi il rilancio del polo tecnologico del Cirso. D'Amico ha illustrato bilanci, risultati di esercizio e piani industriali formulati e condivisi con i sindaci dei comuni soci del consorzio in quel periodo. In due anni, dal 2008 al 2010, il fatturato di soggesa salì da 7 milioni e 2 a 17 milioni e 400 mila euro. Fu recuperata la velometria della vecchia Grasciano per circa 30 mila metri cubi. Quegli stessi 30 mila metri cubi che oggi Angelo Di Matteo accusa D'Amico e Cerconi di aver occultato e che invece erano stati autorizzati dalla regione già nel 2009. Tutto nero su bianco, ha ripetuto più volte D'Amico, tra i consensi degli ex lavoratori soggesa. Poi cos'è successo? Come si è arrivati al fallimento di soggesa e all'udienza di prefallimento di Cirso del 16 settembre prossimo? Le accuse lanciate da Di Matteo, attuale presidente del Cirso, D'Amico le rispedisce al mittente. Non tollero che si infanghi il lavoro trasparente e proiettato a risultati di breve e lungo periodo che abbiamo svolto per risanare il polo del Cirso, dichiara. Nel 2008 il salvataggio di soggesa ha evitato di svendere e devolvere quasi gratuitamente al privato il polo tecnologico di Grosciano. A distanza di sei anni ci si ritrova però nella stessa situazione che fu affrontata da D'Amico e da Cerconi. All'epoca si tentò il tutto per tutto, si salvò soggesa, si richiesero e ottenero autorizzazioni a nuove volumetrie in pochi giorni. Sei anni dopo soggesa non c'è più e il Cirso resta in coma. Di chi è la colpa? All'epoca